Il mio intervento sul po' è sull'apostrofo, al posto dell'accento sul po', perché po' quando si scrive po' si intende una contrazione di una parola poco, po' non va scritto con l'accento sull'o, ma va scritto con l'apostrofo. Ebbene, dopo questo mio intervento c'è stata una persona alla quale si è un po' irritata e mi ha risposto sì sì, d'accordo, va bene, sarà sbagliato, ma comunque io sulla tastiera del computer se scrivo po' con l'accento batto su un tasto, se scrivo po' con l'apostrofo devo battere due tasti. E caro amico mio, batti due tasti, l'italiano come la matematica non è un'opinione. E' un'opinione.